Abbiamo circa 14 pazienti con un dispositivo biventricolare Boston e il sistema ArtLogic attivo e con un follow-up medio che credo sia intorno agli 8 mesi attualmente. Abbiamo già diversi casi in cui abbiamo potuto mettere in atto delle correzioni terapeutiche che ci hanno probabilmente, in questo caso non possiamo esserne certi, ma probabilmente hanno evitato a quel paziente poi di presentarsi magari in pronto soccorso con una condizione clinica peggiore. Uno di questi casi è stato anche fonte di una pubblicazione che abbiamo fatto di un case report che credo sia sicuramente uno dei primi su questo algoritmo ed è un caso molto interessante. È un paziente con una dilatativa non ischemica, una bassa frazione diiezione che a luglio del 2017 è andato incontro all'impianto di un biventricolare con una fibrillazione atriale permanente, ricoverato per scompenso, che una volta dimesso viene ricoverato a distanza di un mese per un nuovo episodio di scompenso associato a un'elevata frequenza cardiaca con una FA che non riuscivamo a controllare, per la quale è stato anche tentato una modulazione del nodo atriventricolare con ablazione che è stata inizialmente riuscita ma che poi evidentemente non ha portato a un controllo adeguato della frequenza. C'è stato quindi un terzo ricovero a distanza di un paio di mesi per un nuovo episodio di scompenso nonostante i tentativi di controllo della frequenza terapeutici. Ebbene nel momento in cui poi a distanza di un mese dall'ultimo ricovero è stato disponibile l'ArtLogic perché siamo arrivati al dicembre 2017 quando è stato implementato sulla piattaforma Latitude abbiamo potuto vedere in remoto tutta la misurazione dell'indice in correlazione con questi tre ricoveri e tutti gli eventi clinici di questo paziente abbiamo scoperto che ogni qualvolta il paziente era stato male, si era ricoverato l'ArtLogic aveva superato il valore soglia e non solo lo aveva superato già durante il primo ricovero, ovviamente il paziente non aveva ancora il device quindi è subito salito appena il paziente ha impiantato, ma la cosa interessante è che sia nel secondo che nel terzo ricovero il valore è aumentato prima, almeno una settimana prima del ricovero stesso quindi confermando ancora una volta la possibilità di anticipare grazie a questo indice l'evento clinico. La sfida è importante perché? Perché sappiamo benissimo che il paziente si presenta in ospedale pronto soccorso dal medico quando ha dei sintomi, ma i sintomi sono l'aspetto finale di una catena di eventi che è già iniziata a monte molti giorni se non settimane prima, quindi riuscire ad avere un tempo di predizione di quell'evento che magari può essere anche appunto di diverse settimane come ha dimostrato lo studio Multisens, ci permette di mettere in atto delle azioni terapeutiche o diagnostiche di controllo che riescono poi a evitare quell'evento acuto che costringe il paziente a ricoverarsi e quindi infine ridurre anche il numero probabile di riospedalizzazione.